Nel primo ringio sono andato a prendere la palla, ho sentito un rumore di scimmia. La prima volta ho detto niente, la seconda volta che è successo sono andato dalla panchina e ho detto cosa è successo dietro la porta. È qualcosa che non deve essere nel mondo del calcio, ma purtroppo fa tanti anni che questo qua succede noi dobbiamo reagire, dobbiamo fare qualcosa perché non si può giocare così. Ok, le fischi accettiamo perché siamo fuori casa e così, ma questo qua, questa cosa di rassismo non si può arrivare a questo livello. Con tutte le camera che c'è, tutto quello che c'è, le sancioni, oggi devono fare qualcosa per cambiare. Fa molto tempo che non abbiamo vinto qui, stasera siamo venuti per giocare il nostro calcio. Era una partita molto difficile, ma con la mentalità e l'entusiasmo abbiamo vinto questa partita. Abbiamo un gruppo molto forte che lavora bene ogni giorno, che vogliamo vincere ogni partita. Oggi era una partita molto difficile, abbiamo vinto in squadra e questo qua è un punto buono per noi.